Salve a tutti ragazzi, buona volta bentornati su canale di Neon Trip e bentornati in un nuovo episodio di Infected Vado ad aggiungere dei materiali ma sono sempre... ah vetro, vetro, legna da ardere, materiali richiesti, legna da ardere Aspetta un attimo ragazzi perché oggi, come potete ben intuire, vabbè legna da ardere ce la metto, legno poi ci penso, poi le assi, il vetro vediamo Però questa finestra qua mi interessa, hai i bastoni? Vabbè i bastoni, ok Ah non ce li ho, i bastoni maledetti, vabbè allora vetro ne ho uno, così ce lo togliamo dalle palle qua Ok, qua c'è del vetro Ah e ne vuole 5? Sti gran cazzi Ma proviamo anche a vedere come viene la finestra allora Allora adesso sono curioso della finestra perché non era questo l'obiettivo principale di questa Episodes Però vediamo c'è la finestra, vabbè verriamo attaccati, anche se ne prega È il piccone però, dimmi che sono sassi questa È della maledettissima argilla Perfetto Sarà uguale No mi servono tipo quelle rossicce Questa, questa è pietra Eh no no, il piccone Per romperla Come si fa il piccone? Lama di pietra, fibra vegetale e bastone Allora vabbè Allora vabbè Lama di pietra Fibra vegetale E bastone Quanto ci scommettete adesso che io le pietre le ho usate tutte Per sfonderle Ovviamente Ovviamente Porca miseria In realtà che cercare un sasso per terra in sto cazzo di gioco non è semplice Cioè non ce ne sta Oh sasso per terra, ok Allora No vabbè Mi ho avuto il culo perché vi posso assicurare che non è semplice Allora No però forse devo andare dal banco da lavoro E poi mi serve anche il bastown Il bastown Quindi bastone e la corda Poi vediamo la ricetta una volta che abbiamo tutto Quindi Dammi i bastoni Ok I bastoni qua adesso ce li abbiamo Mi serve la corda Va bene anche questa Adesso vediamo la ricetta del piccone perché non me la ricordo io tanto bene Cosa è questo? Piccone di pietra 1,1 e 2 fibre Ah non serve la corda Non serve la corda, ok Allora Questo intanto facciamo così Una Dividi Una E due fibre Una E una due E ci siamo arrivati il nostro piccone Che ci ha messo qua Perfetto Via a prendere pietre Grandissimo Allora Non l'ho detto mi sa L'obiettivo era di questo Episodio Era di Anzi è ancora Di cercare di buttare giù un progetto Per la nostra casa Ok Quindi il progetto proprio finito della nostra casa Lo magari buttiamo giù in questo episodio E poi ragazzi pian piano Nell'arco dei gameplay Si vedrà questa casa costruirsi Magari un po' me la faccio io off camera Un po' ce la facciamo insieme Ok E facciamo una cosa così In scioltezza Tranquilla Sempegno Che dite? Casa base Chiamatela come volete Potete chiamarla anche Casa base Ok Ora Aspetta Sì Potremmo essere di qua giusti Vi vedere Sì esatto Perché quella cosa è tipo un Un cubo buttato lì così E non è che mi piace molto Ora questa casa verrà fatta così Intanto andiamo a fare Le nostre finestre Perché qua di finestre si tratta Ok La pietra Allora per fare ragazzi il vetro Ho scoperto che Bisogna fare così Ok Due di pietra ti dà dieci di sabbia Due di pietra Dieci di sabbia E con la sabbia Ce la cuciniamo Sulla fornace E vi dà Il vetro Quanti ne servono di vetro? Ben cinque I cazzi No Eh eh no Serve qua Una Due Sabbia Una Due Sabbia Vabbè per adesso ce ne facciamo quattro Ma no ma uno c'è già Quindi cinque Ci stiamo no? Facciamoci sta sabbia E tra l'altro le fornace Si stanno anche spegnendo Ma quelle ci penserò io poi E poi servono i bastoni Ah ne mancano Maledetti Vabbè Facciamo così E ce lo prendiamo da qua Bastone 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 Ok E I nostri non sono facili proprio da fare Vediamo che alimento Dato che ce l'abbiamo sta roba Allora Un po' di qua E un po' di là Perfetto Ok Ah volpe Cioè mi hai scassato la micchia Cioè voglio dirtelo Non te lo voglio dire Ma Ma Voglio Oh Le frecce non Non frecciano E quante te ne servono per morire? Quattrocento volpe Pelle Pelle dell'animale Mmm Allora Allora in realtà Io avevo fatto Sei frecce E mi sono rimaste tre Complimenti Pelle dell'animale Io non Non so se si possa Un momento Abbiamo un sacco di sassi Perché non lo posso raccogliere? Là c'è il vampiro Abbiamo visto dai Ok Vediamo se si può mettere Assieme all'altra Sì Può mettere assieme all'altra Eh là c'è il tizio Là avete visto che pascolava Vabbè Allora vetro ragazzi Proviamo Andiamo a vedere se funziona La finestrella Vabbè intanto Ah Vabbè Si possono fare un sistema Più veloce Per togliere ste robe Però eh Ok Cioè lo spostamento di oggetti È È ridicolo Se dammi Tieni premuto shift E sposta se c'è posto Eccola Sì C'è il vetrino Ma insomma Pensavo un po' meglio eh Però dai Diciamo che Per completezza Ci sta Ok rimangono due lingotti Io qua ragazzi Sto facendo una scorta di lingotti Per il momento Per farmi il banco da lavoro Quello tipo avanzato Non mi ricordo quanti ne servono Qua ne abbiamo cinque Ma Eh Assieme ragazzi Andiamo a vedere Vabbè Anche se moriamo lo stesso Vabbè Siamo morti Praticamente Ehm Poi qua ci sono tutte le tecnologie Vedete Pannello solare Non so dove andarli a prendere Però Faremo un giretto E proveremo andare a costruire In giro queste cose Le cose di ferro Otto Perfetto Quindi noi ne abbiamo Cinque per il momento Cobalto Due Ma quelli ne abbiamo Un fottiglione E poi Sì 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 E poi cosa serve Sì sì Serve Allora Parti meccaniche Componenti elettriche E le parti meccaniche Che si fanno Con l'ingotto Un lingotto Quindi altri quattro Quindi sono Fatemi pensare Ma che cazzo fai Non lo devi costruire Cazzo Allora Sono Otto più quattro Dodici lingotti Solo di ferro E le componenti elettriche Credo che si faccia Con quello di rame No qua Qua Ok Sì rame plastica E cobalto Ne servono quattro Quindi mi servono Cinque Sei lingotti Di cobalto Una Due Tre Quattro Cinque Ci siamo quasi Ne manca uno E poi ragazzi Vediamo il resto Va bene Allora Facciamo il progetto Ragazzi Come detto Della casa Della base Allora Tanto Per cominciare Andiamo a aprire il nostro inventario E andiamo a posizionare Le fondamenta Qua ci sono delle scale Delle rampe O anche queste scale qua Mi piacerebbe metterle All'interno della casa Possiamo per favore Fare a meno Possiamo fare a meno Non possiamo fare a meno Allora Ecco Ok In testa Una freccia è sufficiente Così mi tengo Ste frecce Per Vabbè Si diceva La Intanto ci mettiamo Le fondamenta Le fondamenta vanno messe qua Però se me le giri così Ragazzi Vengono messe tutte uguali Poi Ok Facciamo una piattaforma Anche qua Tre per tre Ah non si può più Salire Ah non ho fixato Oh Era ora Ora non si può più salire Sulle piattaforme fantasma Vedete ci è andato in mezzo Meno male E poi vediamo un po' qua Secondo me Anzi qua è inutile Perché Aspetta un attimo Se io ci faccio un'altra piattaforma qua Qui non ci sta Ok va bene Però ci va Ci andrà il muro E qui ragazzi Poi ci facciamo le mura Le mura No è il muro Tac Qua Facciamoci il muro di legno Muro di legno Ma si possono Credare queste cose Vabbè Quando ce lo facciamo esterno Ma non si può Finchè non lo costruisci Eh che cagata Va bene Allora niente Annaggia Annaggia Che volevo farci Il muro esterno Poi qua Allora Questo qua In pratica ragazzi È Un'altra camera Questo qua è uno stanzone Ok Qua sarà uno stanzone Poi qua ci sarà la porta Ok E ci facciamo altre piattaforme La porta Eccola qua Eh Poi facciamo Una Due Tre Quattro Ok Una Due Tre E quattro Aspetta Poi Una Due Tre E quattro Ok E una Due Tre E quattro E qua è finita un'altra stanza Poi qui ci sarà un'altra stranza Di Aspetta Fatemi pensare Lasciarci lo spazio Di due qua Una Due Tre E quattro Sto pensando Se lasciarci lo spazio In mezzo Oppure no Ehm No Non ce lo lascio Facciamo così Ok 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 Qua sarà un'altra stanza Ragazzi Allora Una stanza è questa Una è questa Una sarà qua E una sarà Qui Ok Ci sarà la porta Qua si entrerà in un'altra stanza Poi il piano superiore Sarà Che qua ci saranno le scale Che saliranno Andranno su Ok Mentre qua Sopra Io ho fatto il tetto Però ci faremo il tetto Qua Ma non ci sarà un secondo piano Qua lo useremo tipo da terrazzo Ok Facciamoci una specie di terrazzo E poi vorrevo farci anche Mh Una specie di passerella Tipo barra terrazzo Passerella O come volete chiamarla voi Che gira intorno alla casa Ok Quindi da sopra Dal terrazzo Possiamo girare intorno a tutta la casa Del piano superiore Quindi adesso vediamo come farla Perché probabilmente Ehm Io farei un muro Qui No posso anche farlo qua Però il piano superiore Si fermerà qua A uno No Quindi qua Lascerò uno spazio Mo adesso vediamo Poi vedremo se Andare avanti o no A fare Mh Altre stanzette Sotto Non credo che mi servano E quindi Credo Che qua Siamo a posto Ok Poi vedremo ragazzi Se vogliamo aggiungere altre cose Si Poi comunque Non mi fa costruire Finchè non ho fatto le piattaforme Ragazzi Quindi io pian piano Me le faccio Solo che Mi serviranno assolutamente Le assi 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 Per farle Le assi Perché io qua Adesso ne ho Veramente poche E Non credo Di riuscire a farne altre Cioè Ne faccio altre Però Il farming è talmente lento Che Per fare tutto questo popò Di lavoro Non credo Che mi servirà Una vita intera Quindi Quindi devo cercare Assolutamente Di sbloccare L'altra Altra Ok Lascia No Non lascia un cacchio Perché dovevo lasciarlo Ora prendiamoci Perché non si possono spostare Da fornace in fornace E li mettiamo qua 4 E 1 5 E questo sarà un altro Lingotto di ferro Qua ci mettiamo la pietra Qua ci mettiamo 1 E 2 Cioè Sostanzialmente il gioco ragazzi È più o meno Tutto così Poi magari Mettichi nelle prossime posizioni Potremmo anche provare Andare a caccia Di qualcosa Però per farlo Mi servirebbero Delle piume Per avere le piume Devo accoppare Dei Dei volatili Perché se no Non posso farmi le frecce E Qua non ce ne sono Non ne vedo Quindi Aggiungere materiale Posso aggiungere qualcosa Assolutamente no Poi siamo pieni con le assi Però non possiamo Trasportarle Perché Perché c'è questo In mezzo alle palle Vabbè Cioè Quindi ste assi Può prendere adesso Le assi Non mi prende più Le assi Si qual posto c'è A meno che le assi Non prendono tutto Prendono tutto L'inventario del cristo Le assi Perfetto E Va bene Poi abbiamo Altra pietra Adesso andiamo a vedere Raga Stiamo a posto Poi abbiamo Altra pietra Ok Qua intanto Me la vado a mettere giusto Pietra così Ci liberiamo L'inventario Ok E il progetto È un po' difficile Perché pensavo Si potesse costruire Dappertutto Ma in realtà Non è proprio così Quindi mettiamoci Tutte le assi Qua Anche se mi preme Prima metterle qua E prima Mi preme Metterle qua Le assi Vabbè E Ok Cioè Vabbè Poi me lo farò io Ragazzi Da solo Sto lavoro Perché Posso capire che Può essere Una gran palla Facciamo che ci prendiamo Solo quattro Di questi Di questi E finiamo almeno Una sola piattaforma Tanto adesso Quella facciamo presto Mettiamo una Ok Ah noi no Però gli oggetti Possono Salire sulle piattaforme Fantasma Ok Bene Anche il tetto Mi piacerebbe finire Però vedete che C'era talmente Tanta roba Che Boh Io Non so Ci penserò Poi Va bene Quindi Eccolo là Vedete Lì ci sono degli uccelli Però beccarli con l'arco Adesso è un casino E se io finisco le frecce È un casino Triplo Perché non Posso più Cacciarli Se questi Atterrassero Maledetti Proverei a scoccargli Una freccia No Ho visto tipo Eccolo qua Uno Fermi 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 Non volare via Ma è un piccione Merda E se fermo Un secondo Eccolo L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Fermi tutti Ah un gabbiano Oh le piume Grande Ok E abbiamo recuperato Anche la freccia Sì Quindi Piume Frecce Vabbè Il problema Sì ho capito Il cibo Però Anche le frecce Mi servono Quindi Vabbè Uno l'abbiamo preso Quindi possiamo farci Altre frecce Ok Devo fare Sta scorta Assolutamente Assolutissimamente Di piume Perché mi serviranno Perché mi serviranno Come loro Ah qua ne me ne ha Troppate un bel po' Che stiamo adesso 14 Ottimo 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 Molto bene raga Accogli bastone Perfetto Allora Facciamo che io mi fermo Qua adesso Giusto taglio un albero Quanto stiamo Vabbè 20 minuti Facciamo un episodio Un po' più corto Del solito Comunque Diciamo che per il momento Io mi fermo qua E il prossimo episodio Proveremo ad andare Un po' a caccia A vedere se riusciamo Ad attrezzarci Con delle cibarie Tanto ho visto che Per la sopravvivenza Se noi riusciamo a fare Questi Con i semi E tutto il resto Vabbè poi mancheranno Solo le proteine Ma comunque Dovremmo anche Esserci E Poi vedremo Comunque Facciamo così Grazie a tutti per essere stati con me Noi ci vediamo alla prossima Ricordatevi like Commenti Condivisioni Qua sotto al canale Qua vedete che ne mancano 4 Quindi Non le voglio buttare Ce ne manca una E basta Maledizione E vabbè E ricordatevi ragazzi Di lasciare Like E niente Ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti per essere stati con me Guardate i link in descrizione Che ci sono anche i canali I canali I vari gruppi E noi ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao Ciao Grazie a tutti.